L'incidente è domenica 12 settembre poco dopo le 17.30 sulla strada provinciale 53 a Dozzegna, coinvolto una lancia Y e una moto Harley Davidson 883. L'impatto è stato quanto forte. La vettura ha terminato il suo corso nel prato, mentre moto Centauro sono finite a terra lato carreggiata. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, la polizia locale di Uzzegna, il sindaco Sergio Bartoli e i carabinieri. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Non pare in pericolo di vita. Il lese e le persone sulla vettura. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.